...immigrazione. Ale Berti, è abbastanza stravagante che in Italia l'emergenza di immigrazione sia... Si pone il problema dell'immigrazione non tutti i giorni dell'anno, tutti i mesi dell'anno, ma quando si arriva verso la campagna elettorale, tac, problema immigrazione. Nel merito non c'è dubbio che esista un problema, l'operazione Mare Nostrum ha salvato molte vite umane, è un'operazione che però va registrata e su questo noi lunedì mattina alle 10 incontriamo il Ministro dell'Interno, il Ministro degli Esteri, il Ministro della Difesa, Servizi Segreti, tutte le strutture che si occupano della gestione dell'emergenza, perché credo che l'operazione Mare Nostrum, che è stata avviata dai precedenti governi, vada verificata. Strano che si parli di emergenza o immigrazione. solo in campagna elettorale. Voglio dire che non ci siano problemi, non li nego. Dico soltanto che se ci sono, ci sono sempre, non è che ci sono soltanto quando manca un mese alla campagna elettorale. Lunedì mattina comunque a Chigi, 10, riunione con interni, esteri, difesa, dis, che sarebbe la sigla dei servizi e la polizia. E va bene. Per Gerva sarebbe importante conquistare smantellamento concordia. Il Governo che posizione ha in proposito? Davide Mazzarello, siamo orientati a... No, stiamo lavorando. Stiamo lavorando perché smaltimento sia in Italia. Poi vediamo. E va bene. Silvia Blu. Oltre a Auto Blu toglierete scorte. Non sarebbe meglio mandargli in strada per sicurezza ai cittadini? Dunque, autisti di Auto Blu... Sapete che abbiamo messo il tetto? Soltanto 5 Auto Blu a Ministro al massimo. Autisti di Auto Blu che sono poliziotti torneranno in servizio operativo. Sulle scorte decidono i prefetti. E quindi possiamo fare un po' meno di quello che... Che faremmo da soli? Andiamo avanti, ce ne sono tante. Ci spieghi come saranno le città metropolitane e quanto incideranno sul bilancio dello Stato. Ovviamente ciascun qui è un tema che richiede come salviamo Compei, sempre più gli studenti doni non beneficiari. Non possiamo incentivare la previdenza complementare per i lavoratori a tempo determinato. Allora, andiamo con ordine. Proviamo intanto a dare un... 238 nuovi risultati. Proviamo a dare un scrollone. Credo che l'Italia abbia bisogno di ripartire anche dalla cultura e dall'istruzione, ricordando l'odierna giornata del libro. Assolutamente d'accordo. Ma dobbiamo anche avere il coraggio, caro Lorenzo, di cambiare gli schemi. Per esempio, chi l'ha detto che l'intervento privato nella cultura faccia male? Ma di che parliamo? Non è che la cultura è quella cosa che teniamo in mano ai sovrintendenti, i quali centellinano e elemosinano singole iniziative, incentivando fondi privati, ad esempio. Magari Andrea Sarubbi può consigliare a Matteo Renzi di mettere il punto prima del reply. Matteo risponde così si legge tutto in... anche no. Sai che noia per l'ATL. Ale, questo ha fatto una risposta più tecnica. Andiamo avanti. Abbassare le tassi alle imprese non crea nuovi posti di lavoro. Servono misure dirette come il reddito minimo di cittadinanza. Questa è una tesi abbastanza originale, cioè che per creare lavoro si debba fare il reddito minimo di cittadinanza. È una tesi che la maggior parte degli economisti non condivide. Detto questo, il punto vero è che abbassare le tasse alle imprese, cose che abbiamo fatto, ovviamente è giusto e doveroso, così come è giusto e doveroso abbassare le tasse alle famiglie e lavoratori. Il tema è che non è possibile continuare con un sistema per il quale le tasse crescono, crescono, crescono nella pretesa, nella erronea convinzione di aumentare i servizi. Lo Stato deve restituire qualcosa. Qui sta il grande valore degli 80 euro. Per la prima volta un governo restituisce agli italiani. Anziché dire aumentiamo le tasse, le abbassiamo. E credo che questo sia il fatto più importante. Tesi non condivisibili. o almeno io non sono d'accordo sul fatto che il reddito minimo di cittadinanza crea i posti di lavoro. È misura di giustizia sociale. Poi c'è il reddito minimo di cittadinanza, che è una cosa. E poi ci sono altri strumenti. Il reddito minimo di cittadinanza presuppone che anche il riccone abbia il reddito minimo, cioè che abbia una indennità. Questo è il reddito minimo di cittadinanza. Per il fatto stesso che hai sei cittadino, hai un denaro. Poi c'è l'assegno universale di disoccupazione, che è una cosa diversa. Se volete ne parleremo in un'altra vicenda. Abbassare le tasse è giusto e doveroso. E noi lo facciamo. Gabriele Azra. Salve, Presidente. Per la detrazione IRPEF. Il calcolo l'ha fatto sul CUD non si tratta tecnicamente di detrazione IRPEF, anche perché a regime sarà una misura di contributi sugli oneri, di abbassamento del costo degli oneri, ma di un bonus di 80 euro. A regime sarà intervento sui contributi sociali. Meno parole più fatti. Quando? Qui non ti rispondo. Siamo a fare fatti, quindi va bene. Perché lei e i suoi ministri chiamano professori persone con una cultura istituzionale e giuridica maggiore della sua? Le garantisco che non solo i professori hanno una cultura giuridica maggiore della mia e della sua. E forse della sua. Abbiamo, ma non deleghiamo, le riforme AIPROF. Ale, vai. Il lavoro nero come lo intende risolvere? Il tema dell'emersione, ma sono domande pratiche, risulto inoccupato quando poi non lo sono, scrive Francesco. L'emersione del sommerso è uno dei grandi temi. Riferivo anche prima, quando parlavo di cultura della legalità. Ma bisogna anche, questo lo scrivo, semplificare le norme. Ma le aziende vanno aiutate anche, vanno aiutate, semplificando, riducendo burocrazia. Allora, vediamo se riusciamo a starci dentro. Ovviamente no. Vediamo che semplificando. il mio tweet a Franco Andreozzi è stato inviato. Andiamo a fare un po' di altri 260 nuovi risultati. scuola e cultura ai privati. Lo Stato venderebbe il suo futuro. Avete visto come diventa immediatamente scuola e cultura ai privati, aver semplicemente detto che bisogna incentivare l'utilizzo anche dei fondi privato sulla cultura. Vabbè, lo affronteremo al momento opportuno. Per Matteo Renzi, Matteo risponde, scrive Paolo Cocconi, se io guadagno 3.000 euro al mese, perché date il bonus a mia moglie? Grande tema, Paolo, è quello che sta dentro la vexata questione, si scrive su Twitter, la complicata questione del quoziente familiare. La affrontiamo nella delega. Io visito licei e scuole. Dico che sulla cultura occorre attrarre fondi anche privati. No? I sindaci stanno aspettando risposte sull'edilizia scolastica, scrive Riccardo Pasquino. 4.500 sindaci mi hanno inviato e-mail. Abbiamo tolto dal patto di stabilità le loro richieste. Ci siamo. Questa è una cosa molto importante, peccato soltanto che è talmente importante che ho sbagliato a scriverlo. Abbiamo ricevuto 4.500 richieste, abbiamo tolto dal patto di stabilità gli interventi sulla scuola. Questa è una cosa che è importantissima, sarebbe fondamentale discuterne, la affronteremo non soltanto su Twitter, quella dell'unità di missione della scuola, sarà un grandissimo lavoro che da giugno porterà un sacco di cantieri sparsi su tutto il territorio e sarà l'inizio di una grande scommessa educativa, perché poi l'aspetto educativo è l'aspetto centrale, tiene insieme la cultura, l'educazione, la RAIS, tante cose divertenti. Appena abbiamo finito di fare le cose urgenti, iniziamo a fare le cose divertenti. però al di là delle battute credo che sia molto importante che si parta dall'edilizia scolastica, non saremmo stati credibili se avessimo iniziato un progetto di rinnovamento educativo senza partire dall'edilizia scolastica. Gli interventi sulla scuola saranno 3,5 miliardi di euro. sugli 80 euro avevi detto che si andava a decrescere fino a 30.000 euro, in realtà si va a decrescere fino a 26.000 euro, che sono comunque più di 1.500 euro al mese. Questo è comunque più di 1.500 euro netti al mese promessi. Lorenzo Nicolosi, il debito è in aumento dal 127% del 2012 al 132,6% del 2013. Riuscirete a rispettare i vincoli e a far ripartire l'economia? Qui c'è un passaggio, questo è il rapporto con il PIL, perché il PIL è negativo e nel debito confluiscono sia gli interventi per il Fondo Salva Stati, cioè per dare una mano ai paesi messi peggio in Europa, perché poi, diciamo la verità, noi in Europa siamo contribuenti attivi, cioè siamo persone che danno più soldi di quelli che portano via. Ragionamento complesso. Le cifre che citi si riferiscono al rapporto con il PIL, che in questo anno è stato negativo, è stato un disastro, perché è negativo. Comunque rispettiamo, comunque la risposta è sì. Rispetteremo i vincoli e faremo ripartire l'economia, poi lavoreremo per cambiare i vincoli, come è noto, l'ho già detto tante volte. Rapporto sul PIL, così ci sta dentro tutto, se no... Eccolo qua. Necessario prendere, scrive Angelo D'Ambrosio, vi risparmio la domanda su Quadrato, Quadrato e su Zipras, perché sono collegate, ci sta dentro anche Pozzo, una domanda di Voland, che credo abbia qualche problema personale. Necessario prendere task force esperti in informatizzazione per creazione di network di database per dati dei cittadini. Questo è un grandissimo tema, gli open data o open data. Noi non credo che abbiamo bisogno di network di esperti, noi abbiamo bisogno di mettere online tutti i dati, il processo di open data. E poi di consentire nella gestione dei big data, big data più correttamente, che cosa? Di consentire la possibilità per una start-up che vuole creare un'applicazione ad hoc, per un cittadino che vuole semplicemente controllare come vanno le cose, di avere il libero accesso totale a tutti i dati. Quindi non servono, non è che non servono, la task force è importante, ma il punto è allargare la disponibilità di tutti i dati a chiunque. questo è il processo di open gov e di open data. Chiamo open data perché open gov non ci sta, cioè open data e open gov insieme non ci stanno. Gli affitti in nero a prezzi assurdi, questa è la lotta all'evasione di cui parlavamo prima. Tra l'altro segnalo che sull'evasione noi possiamo fare di più, come non attraverso i blitz, ma attraverso ancora una volta l'innovazione, l'incrocio dei dati. Se io so che quella casa è sfitta perché non risulta un contratto d'affitto, perché magari è pagato in nero, però vedo che c'ha le bollette e le utenze segnate, è del tutto naturale che il controllo che posso fare su quella casa lì è molto più mirato, è molto più capace di far emergere il nero. Poi c'è il tema se magari quel contratto è siglato a meno e c'è una parte fuori busta. Però il concetto è che l'innovazione tecnologica, ho fatto a voce degli esempi per mostrare come l'innovazione tecnologica possa aiutare la lotta al nero, all'evasione. Sono le 14 e il 37, quindi abbiamo ancora qualche minuto, sì però non posso rispondere a una domanda, per ciò che riguarda le tematiche ambientali, sembra quella, fai una domanda a piacere. Matteo risponde con tutti i limiti, è un meccanismo che funziona se ci sono domande specifiche e puntuali. Se alla partita del cuore davano un rigore lo tiravi tu o Baggio, qui siamo alla vicenda personale, ho spiegato su Facebook perché non giocherò alla partita del cuore. Quindi può tirare tranquillamente Baggio, può tirare tranquillamente Roberto. Capito Sbarzeguti, che ha la foto straordinaria, lo segnalo, Pepito, c'è un rischio di un taglio del debito pubblico italiano, come è successo in Grecia, lo chiede mio nonno che ai bot, nonno può non preoccuparsi. Tu vedendo l'immagine, sì, vedendo l'immagine del profilo, sì. La battuta, eh, si scherza, anche se no la faccio tutta uguale. Dirigenti pubblici valutati per meriti non solo dal DG ma anche dal personale dei colleghi. Questa è una buona tesi di Olivieri Pennesi, con un S davanti sarà un nome, mentre Pino Giordani sotto Matteo perché non parli anche di viaggione, non so doveri fino a questo momento. Dicevo, sì, questo tema dei dirigenti da valutare anche dai lavoratori e dai colleghi è molto interessante, soprattutto perché in alcuni paesi c'è funzione. Intanto abbiamo messo, studieremo questa possibilità. Intanto abbiamo messo, intanto da Palazzo Chigi abbiamo iniziato a innovare. Una parte del premio verrà corrisposta soltanto se alcuni criteri di valutazione del Paese saranno positivi. Il PIL, il ranking nel Doing Index Business della World Bank, graduatorie internazionali sulla competitività. Ecco, questo è un passaggio, una parte della retribuzione legata allo Stato del Paese, mettiamolo in questo modo. Salve, non ho capito se le province saranno abolite anche fisicamente a livello di confini territoriali. No. No. Abbiamo abolito i politici dalle province. Abbiamo eliminato i politici dalle province. I politici dalle province. Intanto. Poi andremo sugli uffici periferici. Faccio un esempio. Che senso ha che la ragioneria centrale del generale dello Stato abbia le sedi in tutte le province? Che senso ha che... Ora vedo sensi che... Mi fermo, perché sensi non fu... Ciacciolina non fu... Si è messo le mani nei capelli e ha detto che devi smettere, quindi mi fermo. Ho fatto un esempio sulla ragioneria generale dello Stato. E non si è arrabbiato. Fortunatamente non c'entra, per cui il problema non si può. Abbiamo le ultime tre, perché almeno poi andiamo... 140 nuovi risultati. Che rispondono a quelli che dicono sei più di destra? Giuseppe Cannata? I fatti parlano per noi. E sulla possibilità che Bondi trasfuglie da noi questa... Allora, i fatti parlano per noi. Retribuzioni... La nostra manovra è incentrata sulla giustizia sociale. Bondi anche no, grazie. Nel senso che il punto di Sandro Bondi è molto semplice. Bondi è innamorato di Forza Italia e di Berlusconi e quindi naturalmente sta dall'altra parte del campo. Quindi sta dall'altra parte del campo. Mettiamola così. Il campo, tranquillo. Il Partito Democratico calabrese ha bisogno di rinnovamento. Mica solo il Partito Democratico calabrese. Perché messaggi retti? Eccolo qua. Mica solo il Partito Democratico calabrese, tranquillo. Ma non era meglio dare gli 80 euro a chi non prende lo stipendio dai casse integrati? non è elemosina. È misura di rilancio dei consumi e di giustizia e di equità salariale. Un dirigente pubblico in città prende dai 60 ai 100 mila euro con 40 mila abitanti. Un euro. Scusi, Roberto, lei prende più di 240 mila euro? La mazzata o presunta tale l'abbiamo data solo a chi prende più di 240 mila euro. Lei fa parte del club? Aguri, nel caso. Va bene. Le ultime... No, sto pensando, come dice, avevi paura di sfigurare combattere gli studenti Antonioni e poi si passa a Fironi e Bindi. Quindi c'è come... Molto interessante il... Matteo risponde perché veramente... Poi ci sono i fake che, come solito, sono straordinari. quindi siamo alla... Dice, le devo riconoscere grande dinamicità, velocità inattesa e nuova nella politica. Spiazza gli avversari. Quanto può reggere... Che fa Porta Sfigala? Cioè, questo computer, anziché Portaiella, dice Portanella, che sembra... Ecco... Guardiamo le ultime due. Tolto il segreto di Stato sulle stragi, lo Stato confessa i suoi crimini e criminali. Ma io su questo tema del segreto di Stato veramente trovo una polemica incomprensibile. Noi vogliamo un Paese che sia il Paese più trasparente possibile. Un Paese in cui i dati siano accessibili online. In cui la formazione della legge o del procedimento amministrativo non dipenda dal singolo amministratore o dal capo di gabinetto, ma dalla coerenza delle regole, dalla trasparenza, dalla chiarezza. Dove di conseguenza abbiamo mandato un sacco di faldoni fuori dagli archivi riservati, nell'archivio di Stato, a disposizione di chiunque, a disposizione dei cittadini, dei giornalisti, dei commentatori. Noi non dobbiamo essere il Paese della nebbia, ma il Paese della chiarezza. Dopodiché ho visto polemiche anche su quello e allora dico, vabbè, se siete nervosi ditelo, che ci dobbiamo fare. Matteo, che tempo fa domani in Sardegna? Questa non sono in grado di rispondere. Facciamo l'ultima botta di risposte, o meglio di domande. Vediamo quante sono ancora. 199. Nuovi risultati. Io devo andare perché ho questo appuntamento molto importante. Cosa rispondiamo a Di Maio che fa polemica sul tuo stipendio? Lui che ne prende due. No, non credo che ne prenda due. Credo che prenda il doppio di me, ma questo è un altro discorso. Ma non farei polemiche con nessuno. Sorridi, è meglio. Ci sono un paio di frasi in fiorentino che vi risparmio. È bello perché sta arrivando altre domande. Stanno arrivando molte domande che sono risposte a loro volta di altre questioni. Cosa prevederà la riforma della dirigenza pubblica in un tweet? Andiamo adesso a fare la riunione. Mariella, più merito, più mobilità, più qualità. Questo è un tweet. Al volo. Per il Sud cosa fa? Ho già rivisto. Riportami il pallone mio. Perché non pagare i politici con i titoli di Stato? Queste sono tutte domande molto interessanti. Becco veramente l'ultima perché altrimenti non riusciamo a restare nei tempi che ci siamo dati. Però vi ringrazio perché è veramente interessante. Questo sul Senato, solo domande comode a quelle scomode. Sono qui fisso a domandare Fiorello, Vespa, Gate. Lascierei Fiorello e Vespa. Io ho organizzato la partitella. Ci stanno facendo tutta una serie di domande divertenti. Lampi-Brescia. Una parola sui dubbi dell'Ampi, così entriamo anche in mood 25 aprile, sulle prediste riforme istituzionali. Da iscritto all'Ampi dico che questa polemica è per me assolutamente incomprensibile. Sulle riforme a che punto siamo? Così chiudiamo questo passaggio con le riforme. Noi abbiamo la legge elettorale che ha già passata la Camera e sarà una legge elettorale che darà a chi vince finalmente la certezza di essere il depositario delle responsabilità. Perché se arrivi primo e vinci eventualmente anche al ballottaggio, poi governi. Non è come oggi che non si sa mai chi vince le elezioni e non è un caso che molti di quelli che si lamentano, ma guarda Renzi è arrivato attraverso una manovra parlamentare anziché un voto elettorale, non vogliano oggi fare una legge elettorale che dia garanzie a chi vince di governare. Quindi primo tema, dobbiamo dare certezza di diritto a chi vince. E il ballottaggio è il punto fondamentale. Tra l'altro questo è un principio costituzionale, non se ne parla mai, ma quando si dice che la sovranità appartiene al popolo, perché il popolo esprima la sovranità è fondamentale che sia messo in condizioni di agire di conseguenza. Primo tema. Secondo tema, la legge sulle province andava, voi il 25 maggio sulle province non votate, e nemmeno noi naturalmente, quindi nessuno vota. Ha fatto positivo, risparmio di costi e vedrete che sarà anche un risparmio di mentalità proprio molto interessante. Terzo punto. La legge costituzionale, che a sua volta tiene insieme tre elementi diversi. L'abolizione del CNEL. Questo è facile. È facile anche se non l'ho mai fatto nessuno, ma è facile. Cioè di un ente inutile. Non so quanti di voi adesso a casa stasera non ce n'eranno perché stiamo abolendo il CNEL. Sarete disperati. Immaginanoci, ma come? Abboniamo il CNEL. E adesso che si fa stasera che stanno per abolire il CNEL. Due. Il tema del titolo quinto, cioè del rapporto tra Stato e regioni. Molto interessante, molto importante e significativo anche questo. Perché il rapporto tra Stato e regioni in che cosa comporta? Comporta che c'è troppa confusione oggi. Non si sa mai se una responsabilità è dello Stato, delle regioni e viceversa. Quindi chiarezza su questo. Terzo e non solo, ma poi è anche una bella regolata delle regioni che ne hanno bisogno. Indenità dei consiglieri regionali, via i rimborsi. Il consigliere regionali non può guadagnare più del sindaco, del comune capoluogo. Una cosa importante. E su questo sono tutti d'accordo. Nel e titolo quinto mi pare che siano tutti d'accordo e non è poco. Sul testo del governo. Poi c'è il passaggio sul Senato che ancora non è del tutto chiarito, ma che prevede sostanzialmente che il Senato non dia più la fiducia, non sia più eletto direttamente, non dia il voto sul bilancio e che sia un Senato quindi che supera il bicameralismo perfetto. Stanno ancora a discutere se i componenti devono essere i presidenti delle regioni e i sindaci o se chiede qualcuno una parte sia elettiva, il che è una contraddizione rispetto all'impostazione di fondo costituzionale. E qualcuno invece non è contento perché ci sono 21 personalità espresse dal Presidente della Repubblica. Ma il punto fondamentale è che tu togliendo l'indennità ai senatori e facendo del senatore un sindaco o un presidente della regione che lavora sul territorio e una volta la settimana va a Roma a discutere di leggi che riguardano le regioni e l'Europa, fai una rivoluzione, semplifichi il procedimento legislativo perché le leggi le fa la Camera, il Senato ha soltanto il compito di controllare le questioni che riguardano regioni e eventualmente rapporti con l'Europa, non molto di più. Questa è l'idea che va a finalmente una volta per tutte non soltanto a ridurre i costi della politica ma anche a ridurre i posti oltre che i costi, i posti con la P perché ce ne sono troppi, soltanto in Italia c'è mille parlamentari. Ma dove siamo? L'America ne ha 500 e noi ne abbiamo mille. quindi da iscritto all'AMPI dico che la riforma costituzionale proposta va nella direzione dei valori che tutti noi difendiamo. Bene, vediamo se recupereremo un Matteo risponde anche più in là. È stata, non so quante domande, abbiamo fatto una trentina, un poco meno, una ventina. Mi spiace che non sono riuscito a rispondere non soltanto a tutti ma anche a poco. Moltissime questioni riguardano l'evasione. Tutti sappiamo che il discorso degli 80 euro, facciamo questo e andiamo via, è solamente propaganda elettorale. Meglio l'uovo oggi che la gallina domani. Oh ma è l'unico provvedimento di campagna elettorale della storia delle istituzioni democratiche occidentali che arriva dopo le elezioni. Ma di che stiamo a parlare? Gli 80 euro arriveranno dopo le elezioni e tutti a dire ma è un provvedimento elettorale. Non è un provvedimento elettorale, è una rivoluzione nel modo di concepire il rapporto tra Stato e i cittadini. Lo Stato inizia a restituire, i politici stringono la cinghia e la gente torna a recuperare un po' di soldi. Non c'entra niente la campagna elettorale, tant'è vero che in busta paga, ve lo dico, il giorno delle elezioni sti soldi non li avete. Quindi il problema non si vuole. Si vuole da tre giorni dopo, dal 28 al 27, per chi ovviamente riceve lo stipendio al 27. Prima ci dicevano che non avremmo mai realizzato un governo metà donna e metà uomini, poi che non avremmo mai fatto un provvedimento di riduzione delle tasse di 10 miliardi, poi che anche se l'avessimo fatto non avremmo trovato le coperture che la mia era soltanto una televendita, poi che non era una televendita ma comunque bisognava aspettare il DEF, poi è arrivato il DEF e mi ha detto bisogna aspettare il decreto, poi è arrivato il decreto e mi ha detto sì però le coperture non vanno bene, poi sono arrivate le coperture e mi ha detto è manovra elettorale. Ragazzi, datevi pace e questi soldi arrivano, la rivoluzione nel rapporto tra cittadini e Stato è iniziata e perché continua a fare polemica noi rispondiamo nel modo più semplice e più tranquillo, cioè lavorando e evitando di inseguire le meschinità degli altri. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima. Grazie Grazie Grazie